sempre con richard benson sempre sulla richard benson tv visibile solo tramite internet passiamo alla sezione i dischi da non comprare i dischi da non comprare primo disco da non comprare si chiamano i podless i podless hanno cominciato come un gruppo glam poi dopo sono totalmente cambiati grazie grazie